Ciao a tutti, sono Angela Canito, responsabile tecnico parisienna. Oggi volevo parlarvi di come risolvere un fattore importante in questo periodo nei saloni, il tempo. I nostri laboratori di ricerca e sviluppo in questi mesi hanno lavorato intensamente e hanno risposto con questo prodotto. Fast Color ha una formulazione di derivazione vegetale che protegge il capello durante tutto il servizio tecnico, diventando così non solo un acceleratore di posa, ma anche di nutrimento. La tecnologia di questo prodotto fa sì che i precursori del colore vengano rilasciati più velocemente all'interno della fibra capillare, riducendo così i tempi di posa. Grazie a tutti. Nel servizio tecnico di decolorazione, Fast Color veicola il prodotto decolorante direttamente nella corteccia, mantenendo il giusto grado di idratazione e velocizzando l'ossidazione, conservando l'elasticità del capello. Grazie a tutti. 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 Cliente soddisfatta. Colori brillanti. Tempi midotti. Grazie a tutti